Musica Vendone donna Due A Do Tannoragazzo Punto Org Punto asm Orgasm Io non sono stato eh Ah si tu Che stai facendo? Sto cercando un ragazzo Un marito che lo che capita? Sto la volta buona che te levi da casa Allora Stendi di cerca dai 18 ai 30 6 cm Comunque non adotta un ragazzo Non adotta un ragazzo E mi servono un ragazzo Allora stendi di cerca Che c'è Che culo quello che adotterai eh 30 cm di fuoco Non mi pare un caso Un sito dei laureati proprio Sventrapapere Uuuuh Ha sventrata già Allora Abdull Nukul Nooo E poi Ma è la magia dell'internet modello Questo mi piace Bulbasauro Gli rispondo subito Come Bulbasauro? Bulbasauro Ciao Uno smile a te Come si fa un smile? Quei tu che ha promesso il buon smile Perché sono io Ciao Te la metti le tue ondine Aspetta di m'intocchire Così Ok Muoveremo Sta rispondendo Ciao Ah vuoi passare la notte romandica Con me eh Questa gioia Con sto fiore Stasera ci riesco Te Strano Viva internet Ma mannaggia Te devi facciarlo Faccio faccià Faccio faccià Mutandine Ricamate Visita La 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 Per andare a pallare La sera In cerco del tiro Bisho 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 Deee Nipotino Eh Tu non puoi capire Che sei nata Eh ma ma immagino Vedete La vedete ridotta così eh Tu non puoi capire Tu mi ha portato Eh La fai le porcate Dove ti ha portato? BINGO Eh te pare? No davvero mi ha portato un bingo Si Al bongo ti ha portato Eh ma l'ha fatto dentro un cesso un bongo Eh mannaggia Ma che schifo di me Vieni qua che ti darò tutto Ma io te disinfetto il cervello a te Ricamate di sei giorni E' finita la moccica Eh Nipote Eh Me servo collare Perchè sogno una cagna mo Allora Come avete potuto vedere Questa serie E basta E basta Allora sta serie era tutta improvvisata E mo' messo l'orecchio e mo' le cazzate che ci venivano in mente Perchè devi fare le cazzate? Bravo Ok raga Allora mi serve il vostro aiuto Eh praticamente Solo cannibalismo se ma niente Si nella so Come l'altra stagione Eh La prossima puntata Ovvero l'ultima La scrivete voi tramite commento Quindi raga Allora scrivete praticamente qualche scenetta Pazza Eh Da fa' insieme Con filo di logica E sia ben chiaro niente corpi estranei nel culo Nel naso Una bocca nelle orecchie E in qualsiasi altro orifizio umano Allora ragazzi So tre scenette da pochi minuti Scrivete quello che deve fare l'onna Celletta Quello che deve fare il nostro nipotino Perchè noi amiamo coinvolgere i nostri nipoteni Allora fatemi sapere che ne pensate di questa serie Commentate Condividete E se vi comportate bene La terza stagione Si allora Si mettiamo se d'accordo Perchè qua Eh Io e Feri e una cosa E ca I son E che E fa E va E il Porca mazzurca Novità del ballo turco Che se balla di rovescio un po' di striscio Senzano un po' con dei caschè La sei buttata vero ma No buta veramente A Pio gli fate una grandissima Mega